Grazie a tutti. Il presidio di primo livello si allontana, silenzio preoccupante dei sindaci. I partiti si preparano ai prossimi appuntamenti elettorali. Venerdì incontro di Forza Italia, pronti a tornare a governare. Anche il Pisdazza affila le armi, il partito dei Sardilancio, alle primarie. Contiziana Lai, presidente del Comitato Zonale Nur, abbiamo parlato di alcune problematiche dell'agro. In primis la viabilità con la situazione critica delle strade. Comune non può accedere ai fondi per il rifacimento perché sono regionali. Un saluto a tutti voi telespettatori di Catalan TV. In primo piano anche quest'oggi la sanità, abbiamo detto ieri, della situazione critica nel reparto di medicina, ma non solo con la dura denuncia della CGL. Allarme raccolto dal consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde, che torna però anche sulla classificazione del presidio di Alghero a primo livello. dopo le promesse da Marinaio, Profuse, a piene mani in campagna elettorale, da Arru, Moerano e dai sindaci di Alghero e Ozzieri, è calato un plumeo silenzio sulla sanità del territorio, dice l'ex sindaco. Marco Tedde punta nuovamente il dito sulla situazione del presidio ospedaliero di Alghero-Ozzieri, per il quale nel piano di ridefinizione della rete ospedaliera, approvato dal consiglio regionale il 25 ottobre dello scorso anno, è stato previsto il primo livello, partendo dal mantenimento delle discipline e servizi già esistenti, ma con l'impegno di avviare dal 2018 un programma di potenziamento di servizi di pronto soccorso, osservazione breve intensiva, l'attivazione della funzione di semi-intensiva generale, delle discipline di oncologia e lungodegenza e della radiologia interventistica estravascolare, servizi che stanno alla base della classificazione entro il 2018 del primo livello per il presidio Alghero-Ozzieri, con la contestuale istituzione della rianimazione. Inoltre il piano prevede nell'ambito del programma di investimenti nell'edilizia ospedaliera anche la realizzazione del nuovo ospedale di Alghero nel rispetto dei requisiti strutturali e tecnologici propri d'idea di primo livello. Nulla di ciò è accaduto, denuncia però l'ex primo cittadino. Nonostante in una riunione della conferenza dei sindaci dello scorso febbraio, il direttore di ATS Moirano sarebbe espressamente impegnato ad avviare entro il 31 marzo i procedimenti attuativi. Silenzio assoluto. Tedde sottolinea che nel frattempo il Ministero della Salute ha bocciato il piano ospedaliero proposto da Piglieru e Arru e votato dal centro-sinistra, ma in molte realtà sarde, al contrario di quanto accade nel presidio Alghero-Ozzieri, il piano è stato già attuato e la medesima cappa di silenzio, secondo il consigliere regionale, è calata sulla realizzazione del nuovo ospedale, dotato di un piano di fattibilità costato circa 900 mila euro, che è stato invece utilizzato per il progetto del nuovo ospedale di Sangavino-Monreale, che ha ottenuto un finanziamento di 68 milioni di euro, per il quale è stata bandita la gara. Nel frattempo, evidenzia Tedde, il reparto di medicina, nonostante il grande impegno del personale medico e paramedico, come denunciato a più riprese dai sindacati, sta annaspando. Tedde ricorda che stanno aumentando i ricoveri impropri, con la necessità di recuperare posti letto aggiuntivi, utilizzando una decina di barelle obsolete che vengono impropriamente allocate nei corridoi, mentre il reparto donne continua a essere dotato di letti e attrezzature fatiscenti. Per l'ennesima volta, e questa è la conclusione di Tedde, dobbiamo sottolineare il preoccupante silenzio di sindaci, che a ottobre dello scorso anno avevano brindato anticipatamente al primo livello e oggi stanno alla finestra a guardare. È giunto il momento dell'azione politica e della proposta coraggiosa. Siamo ragionevolmente certi che i sindaci hanno fatto tesoro dei loro errori di valutazione. Oggi è arrivato però il momento dell'azione e occorre che i primi cittadini si mettano a capo di un movimento territoriale per fare finalmente capire, appiglia e ruarro, che i patti si debbano mantenere con l'istituzione del primo livello e il finanziamento del nuovo ospedale di Alghero. Ma anche per far capire alla Giunta regionale e all'ATS che occorre una definitiva presa in carico dei pesanti problemi del reparto di medicina e degli altri reparti del nosocomio di Alghero che affondano sempre più. Garantiamo ancora una volta che noi li sosterremo realmente, e chiude il consigliere regionale che staremo al loro fianco e a quello di Alghero Zieri per dare speranza alla sanità del territorio. La fuga dal comune di Alghero, scusate, da parte di dirigenti e responsabili di settori amministrativi pare essere inarrestabile. A denunciarlo in una nota il consigliere comunale della Lega Michele Pais il quale fa sapere che lascia il comune anche la dottoressa Francesca Caria anch'essa ormai da molto tempo in ruota di collisione con l'amministrazione. Qualche giorno fa addirittura la Giunta aveva incaricato un legale per verificare la correttezza dei suoi atti, sottolinea Pais, una vera e propria dichiarazione di guerra che non poteva non concludersi con l'allontanamento volontario della dirigente. Ma non è finita qua, secondo l'esponente leghista. Nel giro di qualche giorno anche altri dirigenti sarebbero in procinto di lasciare Alghero proprio per la mancanza di serenità creata dall'amministrazione Bruno, responsabile di aver distrutto un'intera macchina amministrativa, è l'accusa di Pais. Oramai siamo allo sbando più totale, una nave alla deriva, quella di Mario Bruno, non più governabile ma che continua a fare danni, oggi ancora di più irrisolvibili. Giunta è quel che rimane della maggioranza di sinistra, uniti solamente dalla gestione del portiere e spartizione di poltrone a qualunque costo, preferiscono allungare quanto più possibile l'agonia di un'esperienza amministrativa fallimentare sotto ogni punto di vista, ormai conclusasi nel peggior modo possibile. Sarebbe stato auspicabile un gesto di dignità politica da questi signori che purtroppo non arriverà fortunatamente, conclude Pais, le elezioni sono vicine. E a proposito di politica c'è fermento in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, le regionali di febbraio e le comunali che saranno invece tra fine maggio e primi di giugno. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro di Forza Italia-Alghero che dice l'obiettivo è tornare a governare. Nel centro-destra affila le armi anche il PISDATS mentre il partito dei Sardi ha lanciato le primarie. C'erano tutti nell'ultima riunione azzurra svoltasi venerdì nella sede di Via Giovanni XXIII. Il portavoce cittadino Andrea De Logu, il direttivo, il consigliere comunale Maurizio Perisi e Nunzio Camerada e direttamente da Cagliari il consigliere regionale Marco Tedde. A introdurre lavori e moderare l'incontro è stato Ferdinando Manconi. Volti storici e tanti volti nuovi quasi a voler dimostrare che ancora molti in città credono in quel percorso virtuoso che per ben due consigliature consecutive ha permesso di governare con lungimiranza Alghero e che ancora oggi si candida ad assumere la guida accanto agli alleati di ieri e di oggi dopo la disastrosa parentesi della sinistra algherese colpevole di aver logorato i rapporti fra istituzioni e cittadini e fra istituzioni e apparato burocratico conducendo la città in un baratro impensabile. Fino a pochi anni fa si legge in una nota alla luce del rinnovato accordo di coalizione siglato da Berlusconi, Salvini e Meloni alla vigilia della convention di Fiugi. Forza Italia Alghero intende chiamare raccolta tutte le componenti moderate del centrodestra reputando ormai maturi i tempi per mettere la parola fine al mal governo regionale e cittadino e proporre agli elettori programmi chiari e attuabili per il prossimo futuro in grado di porre rimedio ai danni causati dagli attuali inquilini di Viale Trento a Cagliari e portaterra ad Alghero e offrire lo slancio per una prossima ripresa. PUC, sanità, trasporti, servizi sociali, cultura, le autorevoli temi sui quali i forzisti algheresi lavoreranno al fine di trovare la quadra con le tante proposte elaborate in questi ultimi anni di duro lavoro dei banchi dell'opposizione. Si legge un impegno che porterà ai risultati voluti solo con il contributo di tutte le forze responsabili che animano la politica cittadina e che da tempo ormai parlano una sola lingua. Centrodestra che comprenderà anche il partito sardo d'azione e sempre nei giorni scorsi a tal proposito si è svolto un incontro del coordinamento cittadino con il segretario nazionale il senatore Cristian Solinas, l'onorevole Giacomo Sanna il candidato al senato alle scorse elezioni Antonio Moro e il segretario amministrativo nazionale Giorgio Cherchi. Si è parlato del prossimo congresso nazionale del partito convocato per l'ultimo fine settimana di novembre per il quale la sezione di Alghero ha confermato il pieno sostegno alla ricandidatura di Cristian Solinas alla segreteria nazionale. Il grande successo riscontrato dalla campagna teseramenti 2018 che si chiuderà il prossimo 30 settembre ha confermato il grande interesse dei sardi per le proposte sardiste e per le grandi prospettive del partito per i prossimi appuntamenti elettorali sottolineano in un comunicato i sardisti confermando l'intenzione di costruire un'alleanza con i partiti del centrodestra. Le alleanze dovranno partire dai problemi e dalle loro soluzioni primi fra tutti la sanità, i trasporti, le opere pubbliche e comparti produttivi di turismo, agricoltura, pesca e artigianato. Tutti i settori che con le amministrazioni della sinistra hanno subito un abbandono e un regresso mai verificatosi prima denunciano dal Pisdazze. Da Basanto invece nell'Assemblea Popolare il partito dei sardi ha lanciato la proposta delle primarie, una proposta allargata a tutti gli amministratori e anche agli esponenti politici di tutti gli schieramenti per una rivoluzione legale per scegliere il candidato presidente, ha detto il segretario Paolo Maninchedda nel suo intervento. Non importa dove ognuno militi, dove militano i candidati, importa che ci si riconosca in uno schema di costituzione e difesa dei nostri interessi, non primaria del centrosinistra, del centrodestra, autonomisti o indipendentiste. Le primarie o sono aperte per i sardi o sono inutili per i partiti. Occorre sottoscrivere l'affermazione che la Sardegna è una nazione, cioè una comunità di valori e di interessi che vuole i poteri necessari a rappresentarli e interpretarli. È Massimiliano Lepri, il nuovo responsabile di Forza Paris per la città di Alghero. A lui si legge in una nota su incarico diretto del vicepresidente Antonio Cardin, è stato dato ampio mandato per creare le condizioni al fine di creare una struttura del partito, elaborare con le parti un programma di sviluppo per la città di Alghero e per preparare il terreno politico per un'alleanza programmatica con il centrodestra, con le forze sardiste e con l'iste e movimenti civici algheresi. Facciamo ora una prima pausa per la pubblicità. Parliamo ora di sicurezza in città e nel territorio. Nel prossimo servizio faremo una sorta di bilancio con i numeri della Polizia Locale sulle infrazioni rilevate in estate. Tra le più frequenti mancate revisioni, guida con l'uso del cellulare, senza cinture di sicurezza, ma anche mancato il rispetto degli stalli per i disabili. Continuano incessanti i controlli nel territorio da parte della Polizia Locale di Alghero. Sicurezza per cittadini e turisti che trascorrono le vacanze in città. Questo è l'obiettivo principale perseguito dagli uomini guidati dal comandante Calzia, impegnati a fondo nel corso della stagione estiva. Grazie alle moderne apparecchiature di cui il comando di Polizia Locale è dotato, è stato possibile scoprire e sanzionare in tempo reale i cosiddetti furbetti della mancata copertura assicurativa o revisione. Un problema che sta assumendo dimensioni considerevoli, ha spiegato il comandante Calzia. Il fenomeno cresce e con esso aumenta il rischio concreto di trovarsi coinvolti in un incidente stradale e doversi pagare i danni anche senza responsabilità. La Polizia Locale si muove inoltre su un altro fronte, quello del rispetto degli stalli riservati a disabili. A breve verranno predisposti servizi mirati per contestare lì il punto mancato rispetto degli stalli riservati e diversamente abili e gli attraversamenti pedonali diventati parcheggi privilegiati per gli incivili. Un primo bilancio della stagione estiva ancora non conclusa, premetto tuttavia di rilevare che ad oggi sono state accertate 112 frazioni all'articolo 80 del codice della strada, cioè per la mancata revisione del veicolo, 20 infrazioni all'articolo 193 per mancata copertura assicurativa, intensificati anche i controlli per uso del cellulare alla guida e per mancato uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta. Nello specifico, gli uomini del comandante Calzi hanno contestato 81 infrazioni all'articolo 172, ovvero quello per mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e 57 infrazioni per l'articolo 173, ovvero uso del cellulare alla guida. Durante i controlli estivi, si legge ancora nella nota ufficiale del comando della Polizia Locale, sono state inoltre ritirate 6 patenti scadute per violazione dell'articolo 126, 10 patenti per violazione dei limiti di velocità consentiti, accertate tramite la moderna apparecchiatura TrueCam, di cui il comando è dotato, e 4 patenti per violazione dell'articolo 186 che sanziona la guida in stato di alterazione alcolica. Un bilancio che può ritenersi soddisfacente sul fronte della sicurezza e della prevenzione, ha aggiunto il comandante Calzia, con risultati ottenuti grazie alla dedizione e alla professionalità dei colleghi. Il lavoro continua con maggiori controlli per contrastare anche coloro che si ostinano a utilizzare il cellulare durante la guida e a non indossare le cinture di sicurezza. Parliamo ora di problematiche dell'agro e lo facciamo con la Presidente del Comitato Zonale Nura, Tiziana Lai, in primis di viabilità con la situazione critica delle strade. Il flop del Comune è un bando regionale, ma anche della risoluzione di un problema riguardante la scuola primaria di Santa Maria La Palma. Avete lanciato l'allarme, possiamo dire così, in questi giorni sulla viabilità dell'agro che potremmo dire è carente. Il Comune ha partecipato, tra l'altro, a un bando regionale per una strada, ma in realtà si tratta di una strada che è di proprietà regionale. Questo è un tema caldo da tanti anni, perché anche i vecchi direttivi degli altri comitati di Borgata hanno sempre battuto sul tema delle proprietà regionali. Lo sanno tutti che le strade dell'agro sono di proprietà regionali perché passate dalla Ore alla regione. C'è stato così un po' amministrativo. La regione, il Comune del Gherò ha partecipato a questo bando, non si sa perché, per come, si è sfuggito all'amministrazione che quel tratto di strada non era comunale. Sta di fatto che comunque noi oggi abbiamo voluto alzare l'attenzione sul problema, perché il problema è grave. Noi abbiamo 120 km di strade su cui non è mai stata fatta nessun tipo di manutenzione, né ordinaria né straordinaria, che sono completamente abbandonate a se stesse. E quindi la cosa va sicuramente presa in considerazione. Quindi è un modo di dire all'amministrazione che esistiamo. Ecco, un problema grave, un problema che invece possiamo dire si è risolto, che riguarda la scuola di Santa Maria La Palma. Risolto sì, per quest'anno siamo riusciti a ottenere, anche grazie all'interessamento del consigliere regionale Raimondo Cacciotto, che ha parlato col provveditore a Cagliari, siamo riusciti a non fare la pluriclasse formalmente. Si vedono in pluriclasse solo per la sezione, per le ore di religione, il resto delle attività le fanno separatamente, i bambini di quarta e di quinta. Rimane il problema per le scuole medie, perché se i bambini rimangono con il numero di quest'anno, in quinta e in prima media non avremmo la classe. Ora, noi abbiamo tanti bambini di scuole, delle altre borgatte, delle comuni di Sassari, che vorrebbero partecipare alle nostre elezioni. Il problema è che c'è un inghippo con i pulmini, quindi Sassari e Alghero non si mettono d'accordo sul trasporto dei bambini. Cosa facciamo? Stiamo prestando, perché le due amministrazioni si sentano e provino a trovare una soluzione. La morte delle scuole di Santa Maria della Porta significa il decadimento totale di tutti i servizi dell'agro. I comitati di Borgata di Sassegada e Tancafarrà e Maristella, in una nota a firma dei rispettivi presidenti Antonio Zida e Tonina De Sogos, chiedono al sindaco Mario Bruno di emettere un'ordinanza per vietare il fumo sulle spiagge di Porto Conte a partire da gennaio 2019, seguendo così l'esempio virtuoso di Stintino e di altre realtà isolane e non solo. Alghero, città della famiglia, che promuove politiche per il benessere familiare, dovrebbe perseguire questo obiettivo liberando definitivamente le spiagge da fumo attivo e passivo, nonché dal grave danno ambientale dovuto all'insabbiamento da parte degli incivili dei mozziconi di sigaretta. La presenza del parco di Porto Conte dovrebbe inoltre fungere ed ulteriore stimolo verso questo tipo di iniziative a tutela della salute e dell'ambiente. Facciamo l'ultima pausa per la pubblicità. Più di 150 persone, molti bambini e famiglie, hanno percorso domenica i circa 6 chilometri di piste ciclabili dal Colle del Tro a Maria Pia per fare il rientro poi in Piazzale della Pace, dove i più piccoli hanno fatto pratica su percorsi allestiti nello slargo. Il tutto nell'ambito della ciclopedalata di fine estate organizzata da Alghero Baica SD e FIAB Onlus Alghero. Ad aprire il lungo e colorato corteo su due ruote il sindaco Bruno, il segretario generale del comune Canessa e l'assessora Piras, un ottimo veicolo di promozione della sostenibilità nella mobilità e nello sviluppo turistico del territorio con l'uso della bicicletta. In particolare tra le nuove generazioni e le famiglie con bambini in età scolare. La pedalata di fine estate infatti si inserisce tra i progetti dell'amministrazione Ambici, Ampra, la bisicletta, Ansuitat e Bike Sharing Pedaliamo Alghero. Un'anteprima dell'Alghefamili Festival, il festival dedicato alle famiglie che si terrà ad Alghero dal prossimo 30 settembre al 7 ottobre. Otto giorni di festa, spettacolo, cultura e tanto divertimento. Al termine della ciclopedalata, gadget per tutti e premi ai partecipanti più anziani, rispettivamente 80 e 78 anni, alla piccola Sabrina, la più giovane in sella e alla famiglia più numerosa ai nastri di partenza, ben 8 componenti. A loro l'amministrazione comunale ha regalato l'abbonamento annuale al Bike Sharing con la possibilità di utilizzare gratuitamente le biciclette ubicate nelle 5 stazioni urbane. E poi passiamo a parlare invece di cultura, soprattutto di uno scrittore algherese, in special modo. L'intervista ve la proponiamo ed è quella di Giovanni Secchi, scrittore algherese che presenterà venerdì il suo ultimo libro dal titolo Il Sesto Indizio. In compagnia di Giovanni Secchi qui a CatalanTV, scrittore, è uscito il suo secondo romanzo, Giovanni Secchi che algherese, trapiantato a Milano ormai da 5 anni, è venuto qui a raccontarci di cosa parla Il Sesto Indizio. Ciao a tutti, ciao Dolores. Il Sesto Indizio è un noir, parla di un'agenza investigativa chiamata Orfeus che ha una specializzazione abbastanza particolare, cioè specializzata nel trovare i morti, le persone date per morte e i familiari vogliono trovarle a tutti i costi, a volte perché vogliono sapere dov'è la loro persona che scomparsa, la persona cara e a volte perché pensano che in fondo sia scappata da qualche segreto da nascondere. Una donna, Monica Gers, una ricca editiera, si avvicina all'agenzia chiedendo di ritrovare Dario Spadafora, un ragazzo che dieci anni prima ha rapito la figlia di Monica tenendola per sei mesi chiusa in un rifugio e sottoponendola a delle torture. La polizia è riuscita a ritrovare la ragazza, a salvarla, però dopo quello che ha subito la ragazza si è suicidata e il ragazzo è riuscito a scappare anche se ferito. È stata dichiarata la sua morte presunta e Monica vuole che questa persona venga ritrovata per far sì che possa pagare per quello che ha fatto. Quindi veramente un noir in piena regola con dei lati misteriosi che poi alla fine chi leggerà il libro scoprirà, pare. Giovanni, ma da quando è iniziata questa passione? È iniziata da oramai vent'anni. Ero in prima, seconda, superiore e mi sono innamorato delle storie, mi sono innamorato della narrazione, delle mille vite che ti può permettere la lettura e la scrittura, la crescita personale che le storie ti possono dare. Ero sempre stato un appassionato lettore e mi sono detto perché no, io ci provo. Ho provato con dei racconti, ho vinto dei concorsi e mi sono detto che forse in questa cosa posso riuscire bene, poi sono passate i romanzi e due anni fa sono stato pubblicato il mio primo romanzo, solo tre regole si intitola e ora per la Fanucci il sesto indizio. Ad Alghero anche per presentarlo questo sesto indizio? Sì, il 28 di questo mese alle 6 e mezza presenterò presso il labirinto il mio romanzo per tutti gli algheresi che sono interessati. Ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie a tutti.